Allora, siamo in una corte interna di Via del Romito, l'appartamento è al primo piano senza ascensore, quindi bassissime spese condominiali, molto piccolo, ideale per una persona, una giovane coppia o per essere messa a reddito. Curato, guardate che bellino, gli spazi sono tutti molto sfruttati. Vedete, questa è la zona giorno che fa zona giorno e angolo cottura. Il divano per vedere la televisione, porta blindata, qui ci si può mettere una televisione, in questo momento non c'è, lì il tavolo per mangiare, i fan coil, gli infissi sono stati cambiati, guardate che belli. Qui c'è una terrazza gradevole. Dietro a quella porta abbiamo il ripostiglio, lavanderia, di proprietà. Qui c'è la camera da letto che dopo la vediamo meglio dall'interno. Ecco, quindi dietro a questa porta c'è la lavanderia, ripostiglio e quant'altro. La macchina del fan coil. Zanzariera. Altra zona ripostiglio, fino in alto. E qui abbiamo la camera da letto matrimoniale. Quindi vedete che è adatto sia per viverci una giovane coppia oppure appunto per essere messa a reddito. Qui siamo affacciati sulla terrazza di prima. E qui il bagno con finestra. Ecco, abbiamo terminato.